ben trovati in questo video vediamo una partita brevissima giocata a parigi nel 1924 tra due giocatori buoni anche se non così famosi gibault e lazard la partita è questa d4 cavallo f6 e il bianco gioca cavallo d2 una mossa particolare ma non sbagliata e 5 il nero mette in presa un pedone il bianco accetta il sacrificio e il nero gioca cavallo g4 con l'idea di recuperare il pedone qui però il bianco commette un errore un errore molto grave cioè h3 questo genere di mosse generalmente sono sbagliate perché indeboliscono ulteriormente la posizione infatti il nero approfitta con una mossa molto brillante cavallo e3 con questa mossa praticamente il nero ha già vinto perché il bianco non può accettare di catturare il cavallo perché segue matto matto che è possibile proprio per via del pedone in h3 cioè adesso il bianco non può spingere in g3 perché prende matto se il pedone fosse ancora stato in h2 il pedone h3 fosse ancora stato in h2 g3 avrebbe difeso tutto quindi la spinta in h3 ha creato questa debolezza letale diciamo in g3 che permette lo scacco di donna dopo cavallo e3 quindi il bianco non può catturare il cavallo deve fare qualsiasi altra mossa che ne so fa questa e quindi perderà la donna infatti in questa posizione il bianco abbandonò bene questa è una partita molto bella che illustra però un tema fondamentale cioè che non si possono fare certe mosse apparentemente buone ma in realtà vanno pensate bene perché possono avere conseguenze molto gravi cioè le spinte per cacciare via i pezzi avversari come questa h3 spesso sono sbagliate molto più spesso di quello che sembra eppure è una cosa molto frequente cioè molti giocatori appena vengono attaccati da un pezzo avversario o vedono un pezzo avversario che più o meno entra nel proprio campo lo cacciano via con una spinta di pedone questo però in molte situazioni porta a perdere subito chiaramente il nero deve essere un buon giocatore che sa come approfittare però è un bel esempio è un buon giocatore che sa come approfittare però è un buon giocatore che sa come approfittare